Benvenuti a tutti a questo nuovo e aggiornato corso gratuito sugli investimenti. Io sono Mattia di Ingegneri in Borsa e questa non è una prova gratuita per cercare di vendervi qualche corso da diverse centinaia di euro. Si tratta di un corso completo e totalmente gratuito che sarà qui sul nostro canale YouTube e che abbiamo realizzato in collaborazione con Scalable Capital, che non è solo il broker che utilizziamo per investire, come vedete dalla descrizione, ma anche un nostro partner aziendale con cui collaboriamo su diversi fronti. Se volete iniziare subito con il corso, saltate i primi due minuti di video, altrimenti ascoltate la storia di questa iniziativa e il motivo per cui ci siamo impegnati a metterla a terra. Per chi è nuovo su questo canale dovete sapere che la missione di Ingegneri in Borsa è portare maggiore consapevolezza e conoscenza sul meraviglioso mondo degli investimenti e della finanza. Attenzione però, non stiamo parlando di trading o di altre cose particolari, la nostra filosofia è sempre stata quella di investimenti con orizzonte temporale di lungo periodo, ben diversificati e soprattutto ragionati, senza speculazioni, ed è il motivo per cui abbiamo scelto Scalable Capital come partner per questa iniziativa, in quanto condividiamo la stessa visione del modo degli investimenti. Pensate ragazzi che secondo un'indagine condotta dall'Ox nel 2020, l'Italia risulta il paese con il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria. È fondamentale intervenire su questo problema perché dall'educazione finanziaria passa anche la crescita economica del paese. Per fortuna negli ultimi anni le cose stanno migliorando, il tasso di alfabetizzazione finanziaria cresce e c'è sempre maggiore interesse tra i giovani, di questo siamo davvero contenti. E proprio per questo in realtà due anni fa abbiamo deciso di lanciare il nostro primo corso sugli investimenti totalmente gratuito. Dopo due anni in cui è successo davvero di tutto sui mercati, l'inflazione, la guerra, rialzo dei tassi di interesse, insomma veramente di tutto, quel corso meritava un aggiornamento, anche alla luce di tutti i vostri feedback e i vostri consigli, e naturalmente con l'aiuto di tutto il team Scalable Capital. E per essere trasparenti come ci piace fare su Ingegneri in Borsa, quello che trovate in descrizione è un link affiliato perché noi stiamo utilizzando Scalable come broker, ci troviamo bene e ci fa piacere promuoverlo sul nostro canale come Broker per Investire. E utilizzando quel link aiutate anche a sostenere questo canale e il lavoro di divulgazione finanziaria. Venendo al corso vediamo come sarà strutturato e cosa tratteremo oggi. Il programma del corso lo trovate in questa immagine, dove partiremo proprio dalle basi, cosa vuol dire investire, quanto si guadagna e come funziona. E poi toccheremo argomenti man mano più complessi, arrivando alle strategie dei più grandi investitori al mondo. Usciranno due video al mese, sempre di domenica, praticamente una settimana sì e una no. Parleremo di ETF, di azioni, di analisi fondamentale. Insomma cercheremo di darvi un quadro completo di questo mondo che ci appassiona così tanto, ma vi chiediamo prima un favore. Aiutateci a diffondere questo corso al numero più alto di persone possibili, perché è un'iniziativa quasi unica in Italia e può dare un ottimo contributo all'educazione finanziaria del nostro paese, rivolgendosi a tutte quelle persone che vogliono investire qualche ora per comprendere meglio questa materia. Ok ragazzi, ora che abbiamo chiarito perché facciamo questo corso, partiamo dalle basi, ovvero la definizione. Investire vuol dire impiegare risorse finanziarie in operazioni fruttifere. Il verbo investire deriva dal latino e significa coprire con una veste, ossia rivestire, circondare. Da qui il significato di dare risparmi a una nuova veste, investendogli appunto in titoli o in altri strumenti finanziari che vedremo. E perché investire o perché non investire? Giustamente potreste dire per aumentare il patrimonio, addirittura diventare ricchi. La risposta sarebbe giusta, ma parzialmente. Infatti il primo motivo per cui si decide di investire, piuttosto che tenere fermo il proprio denaro, è combattere l'inflazione. Sapete cosa vuol dire? Nell'ultimo anno abbiamo sentito questa parola davvero centinaia di volte perché ha raggiunto livelli preoccupanti. Ma per chi ancora non avesse chiaro questo fenomeno, ve lo spieghiamo nella maniera più semplice possibile con una foto. Cosa notate ragazzi? Con il passare del tempo per acquistare lo stesso bene è necessario sempre più denaro, poiché il suo prezzo aumenta. E più l'inflazione è elevata, più i prezzi crescono. Ecco quindi che il primissimo motivo per investire non è potersi permettere più cose, ma potersi permettere lo stesso stile di vita man mano che questo diventa più costoso. Chi terrà i soldi fermi vedrà tutto aumentare di prezzo, mentre chi li investirà, nel caso in cui questi investimenti si dovessero rivelare vincenti, potrà permettersi lo stesso stile di vita o addirittura migliorarlo. In alcuni casi l'inflazione è talmente elevata che i rendimenti degli investimenti non sono sufficienti per compensare l'aumento del costo della vita, ma perlomeno lo riducono. Alcuni di voi potrebbero controbattere che nonostante nell'ultimo anno si sia parlato tanto di inflazione, non tutto si è aumentato di prezzo, sicuramente sulle bollette è più evidente, ma in alcuni casi è velato. Ci spieghiamo meglio. Di fianco al concetto di inflazione c'è quello di shrink inflation, come prima è con un'immagine che vale più di mille parole. Come avrete capito è vero che in alcuni casi il prezzo non è aumentato in valore assoluto, ma è diminuita la quantità offerta allo stesso prezzo. Di conseguenza l'effetto finale sarà il medesimo, con la stessa quantità compreremo meno beni. Il secondo motivo naturalmente è quello di accrescere il proprio capitale, sia per avere una sorta di pensione integrativa, piuttosto che per aumentare le proprie capacità di spesa in futuro, o avere una somma da parte per istruzione dei propri figli ad esempio. Partendo da questi concetti si possono sviluppare diverse strategie in base agli obiettivi che vengono posti e della propensione al rischio, ricordatevi questa parola che dopo la riprendiamo. Un'altra domanda che magari qualcuno di voi si chiede, ma se investire è così importante, perché non lo fanno tutti? Beh perché come qualsiasi cosa ha dei pro e dei contro. Di conseguenza esistono dei casi dove investire può non essere la scelta più appropriata alla propria situazione. Infatti per definizione, investire comporta dei rischi, in quanto si impiega il proprio denaro in un'attività sperando che questa vada bene e quindi ci frutti un guadagno, ma le cose potrebbero non andare per il verso sperato. Ci sono investimenti storicamente più o meno sicuri, ma ovunque ci sia un possibile guadagno, ricordatevi bene, c'è una possibile perdita. Tenete la mente questa regola perché è fondamentale per comprendere questo mondo, non esistono guadagni assicurati e diffidate da chi ve li promette. Ci teniamo particolarmente a trasmettere in maniera chiara questo messaggio. Infine, in Italia si tratta anche di un problema culturale, ovvero manca sia l'educazione di base per comprendere i meccanismi del sistema economico, e a questo si aggiunge spesso una certa diffidenza verso questo mondo. Ok, bene, abbiamo capito che investire aiuta a non vedere il proprio denaro eroso dall'inflazione, ma è possibile anche guadagnare? Insomma, è possibile una situazione stile The Wolf o Wall Street grazie ai guadagni? Nulla è impossibile in questo mondo, ma non è così semplice. Infatti non si può quantificare quanto si guadagna grazie agli investimenti per due ragioni. Uno, dipende da dove si investe. Due, ancora più importante, i guadagni dipendono dal capitale investito. Di conseguenza, a parità di investimenti e quindi di ritorni, chi impiega 10.000 euro guadagnerà molto di più di chi ne investe solamente 1.000. Inoltre, come vedremo più avanti, i guadagni dipendono anche dal lasso di tempo nel quale il capitale viene fatto lavorare. Più questo è lungo, più è probabile ridurre le perdite e guadagnare di più grazie all'interesse composto, quella forza misteriosa che avrete sicuramente già sentito e della quale parleremo in una delle prossime lezioni. Nonostante ciò, possiamo fare una stima dei guadagni prendendo come riferimento l'indice azionario per eccellenza, il più famoso di tutti, l'SP500. Tenete a mente anche questo nome perché lo sentirete spesso. Si tratta di un indice che contiene le 500 aziende americane più grandi in base alla loro capitalizzazione di mercato, quindi il loro valore in borsa. Non si tratta di un indice statico, ma le aziende al suo interno possono cambiare nel corso degli anni. Storicamente questo indice ha reso tra il 7 e il 10% all'anno a seconda un po' degli anni e quando parliamo di rendimento per un investitore ci riferiamo sempre al capitale investito, quindi in questo caso dal 7 al 10% delle somme investite. Ad ogni modo l'SP500 dal 2000 ad oggi è cresciuto del 207%. Ovviamente non è una linea letta, ci sono alti o bassi, ma questo è il rendimento totalizzato fino ad ora. Qualcuno di voi potrebbe chiedersi mai tanto oppure poco? Facciamo qualche confronto. L'indice azionario italiano, il Fuzzemib, è addirittura calato nello stesso periodo di ben 42 punti percentuali. Ovviamente insieme alle performance si deve tenere conto anche del rischio preso. Investire negli Stati Uniti d'America comporta meno rischi geopolitici che puntare su un paese in via di sviluppo, ad esempio, o su un paese con una minore stabilità e continuità politica come l'Italia. Fatta questa parentesi, quindi, quanto guadagnerei investendo? Facciamo una piccola simulazione che lascia un po' il tempo che trova, ma vi aiuta a farvi un'idea. Ipotizziamo di investire 500 euro al mese per 10 anni, con un rendimento medio annuale del 7%. A quanto potremmo arrivare? Alla fine del nostro piccolo esperimento mentale avremmo un risultato di 86.000 euro. Se non li avessi investiti, ma solamente messi da parte, ad oggi varrebbero 60.000 euro. Quindi gli interessi in questa simulazione sono di 26.000 euro. Ora che abbiamo una vaga, ma molto vaga, idea di quanto si può guadagnare è quali sono i reali metodi di guadagno. Sono principalmente due, anche se non sono gli unici. Abbiamo il capital gain, o guadagno in conto capitale, e i dividendi barra cedole. Vediamoli nel dettaglio. Il primo metodo di guadagno in realtà è molto, ma molto semplice da capire. Si ottiene quando si acquista un titolo ad un certo prezzo, e nel tempo questo aumenta. Allora noi vendiamo. Di conseguenza incassiamo la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. Tolta naturalmente la parte di tasse, perché sì ragazzi, sui guadagni si pagano le tasse, ma anche questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Rispondiamo anche alla domanda, ma perché dovrei vendere se il titolo sta salendo? Beh, i motivi possono essere diversi. Magari avevamo fissato un prezzo obiettivo e adesso che è stato raggiunto semplicemente vendiamo. Oppure crediamo di aver raggiunto il picco e che da lì a poco tempo il prezzo comincerà a scendere. Un'altra motivazione potrebbe essere molto concreta. Magari mi servono i soldi, ho bisogno di liquidità e questo mi obbliga a vendere i titoli. Quindi i motivi possono essere molteplici, ma il metodo di guadagno è sempre lo stesso. Il secondo modo per guadagnare con gli investimenti riguarda i dividendi e le cedole. Non sono la stessa cosa, ma sotto alcuni punti di vista sono simili. Partendo dai dividendi, immaginatevi questa situazione. Quando un'azienda ottiene dei profitti, ovvero quando le entrate sono maggiori delle spese, può decidere di restituire una parte di questi guadagni agli azionisti, sotto forma di dividendi. In questo caso il dividendo sarà pari ad una percentuale del capitale investito e sarà distribuito indipendentemente dal prezzo dell'azione, sia che questa salga, sia che questa scenda. Attenzione però, perché la distribuzione dei dividendi è una scelta che spetta all'azienda e non è assolutamente un obbligo, tanto che molte realtà come ad esempio Amazon o Facebook non distribuiscono dividendi. Per quanto riguarda invece le cedole, queste sono relative principalmente alle obbligazioni. Infatti a differenza delle azioni, queste hanno una scadenza entro la quale va restituito il capitale prestato insieme agli interessi. Esistono diverse categorie di obbligazioni, alcune danno gli interessi solamente a scadenza, mentre altre li distribuiscono attraverso delle cedole a scadenze prefissate, proprio come i dividendi. Ma come mai lo fanno? Beh, perché aziende o intere nazioni devono dare un motivo, un incentivo agli investitori per farsi prestare il loro denaro. Ora che abbiamo un'idea un po' più chiara del perché investire e in alcuni casi perché non farlo, sorge un altro tipo di problema, ossia dove investire e soprattutto perché esistono più opportunità di investimento. Partiamo da quest'ultima domanda. La risposta è che esistono diversi strumenti di investimento in base al rischio che si vuole correre. Infatti un altro concetto fondamentale di questa materia è il rischio rendimento. Tanto più è alto il rischio corso, tanto più elevato è il possibile guadagno, come naturalmente la potenziale perdita. Inoltre sono stati creati diversi strumenti finanziari per permettere anche una diversificazione del portafoglio. Mi spiego meglio. Se investiamo i nostri risparmi in una sola attività, e questa va male sfortunatamente, perdiamo tutto. Non è tanto diverso però se investiamo in più attività che sono simili tra loro o si basano comunque sullo stesso sottostante. Invece investire i propri risparmi in strumenti non collegati tra di loro permette di ridurre le probabilità che tutte le attività sulle quali abbiamo puntato vadano male. E questo è esattamente il principio degli ETF su cui ci soffermeremo un bel po'. Tornando invece alla prima domanda, ovvero dove conviene investire, è più difficile dare una risposta, o meglio in realtà è impossibile. Questo perché la moltitudine di strumenti disponibili sul mercato permette di soddisfare le esigenze di chiunque, ma non tutti le condividono o hanno gli stessi obiettivi. Di conseguenza ognuno dovrà fare un piano in base al proprio obiettivo, al proprio goal che vuole raggiungere. Volete creare un fondo pensione che userete fra 40 anni? Allora potrete permettervi di bloccare quei soldi per diversi anni. Al contempo volete mettere da parte una piccola somma per comprare l'auto? Ebbè in questo caso non potete permettervi strumenti con una durata troppo elevata. Adesso ragazzi vi ho citato solo due casi, ma ne potrei fare davvero a centinaia. Finora abbiamo parlato di diversi strumenti di investimento, ma facciamo una panoramica generale così da avere ben chiari in mente di cosa si sta parlando. I principali sono azioni, obbligazioni, materie prime, derivate e criptovalute. Approfondiremo e molto, credetemi, ognuna di queste asset class all'interno del corso. Ora vi facciamo solo una brevissima introduzione, soprattutto per quelli che hanno appena approcciato questo mondo. Partendo dalle azioni sono piccolissime parti di aziende quotate in borsa, il cui possesso ci dà due diritti. La partecipazione agli utili e sopra una certa somma investito o l'acquisto di un certo numero di azioni, la partecipazione alle decisioni della società. Diventerete in sostanza in piccola parte i proprietari dell'azienda, con la prospettiva che aumenti di valore, ma anche il rischio che possa diminuire o in alcuni casi addirittura fallire. La seconda asset class più importante al mondo invece riguarda le obbligazioni, o bond in inglese. Questi sono strumenti di debito emessi da società o da stati, i quali si obbligano a scadenza a restituirci il capitale prestato insieme a degli interessi, che servono a remunerare chi presta il capitale, come annunciavamo prima. In questo caso si dice che il rischio è minore perché la controparte si impegna a restituire la somma con degli interessi, a meno che anche in questo caso non fallisca, e ora sapete perché a volte si parla di default. Passando all'asset class successiva, si tratta delle materie prime. Queste possono essere davvero di tutti i tipi, passando dai cereali ai combustibili, fino ad arrivare ai metalli preziosi e persino all'acqua. Nella maggior parte dei casi, però, quando si investe in materie prime, non si detiene ciò che si acquista, ovvero se investite sui cereali non andrete a possedere davvero dei cereali in garage. Questo perché possederli e mantenerli a dei costi. Allora come è possibile guadagnare senza possedere cereali, combustibili o quant'altro? Beh, grazie alla prossima asset class, ovvero gli strumenti derivati. I derivati sono strumenti finanziari che permettono di investire indirettamente su un sottostante, ovvero ciò su cui si basano. Qui si potrebbe aprire davvero un mondo, ci sono derivati che hanno come sottostante davvero qualsiasi cosa, persino il sentiment degli investitori, quindi cosa pensa al mercato, ma a noi basta capire a grandi linee come funzionano. Le abbiamo citati parlando di materie prime, perché proprio grazie ai derivati è possibile investire su di queste senza possederle fisicamente, evitando di conseguenza costi e problemi legati al loro stoccaggio. Pensate a investire milioni sul petrolio. Ora che abbiamo una panoramica generale delle più importanti asset class, la domanda sorge spontanea. Quanto bisogna allocare in azioni? Quanto in obbligazioni? E le materie prime invece? Come abbiamo accenato prima, non esiste una struttura perfetta per tutti, ma dipende dagli obiettivi e dalle caratteristiche di ognuno. Ci sono tantissime strategie, c'è il portafoglio 60 e 40, che forse qualcuno avrà già sentito, ossia il bilanciamento fra azioni e obbligazioni, c'è chi sostiene anche di tenere una percentuale di azioni pari alla propria età, per compensare il fatto che invecchiando sia una minore propensione al rischio. Insomma, non c'è una risposta esatta, ma quello che è certo è che bisogna avere degli elementi in più per comprendere questo mondo, ed è anche uno degli obiettivi di questo corso. Facciamo un esempio, il portafoglio 60 e 40 ha spesso dato dei buoni risultati, ma il 2022 ha segnato uno dei peggiori anni per questo portafoglio, registrando un rendimento del meno 16%, il peggior calo dal 2008. Per questo diversi analisti sono critici e sostengono che qualcosa sia radicalmente cambiato e che la stabilità offerta dalle obbligazioni non funzioni più così bene. Un altro esempio di portafoglio che potrebbe all'apparenza soddisfare le esigenze di molti investitori è l'All Weather di Ray Dalio, il gestore di uno dei più grandi hedge fund al mondo. Come suggerisce il nome, è un portafoglio che si adatta a qualsiasi momento del ciclo economico, a tutte le stagioni. Infatti è composto per il 30% di azioni, 40% di obbligazioni lungo termine, 15% di obbligazioni a breve termine, 7,5% oro e 7,5% altre materie prime. Non preoccupatevi se non capite ancora l'asset allocation, ci saranno le prossime lezioni apposta. Ho citato questo esempio solo perché può essere una buona scelta per chi non vuole essere troppo esposto ad un'alta volatilità, eppure se lo confrontiamo con l'indice azionario per l'eccellenza, ormai sapete qual è, il famoso SP500, vediamo che ha ottenuto rendimenti molto più bassi sia nel breve che nel lungo periodo. Vi dico la verità ragazzi, con questa parola non voglio scoraggiarvi, voglio solo dirvi che non esiste una sola risposta, nessuno di noi ha la verità in tasca e diffidate di chi prova a darvela. Lo scopo di questo corso è darvi una maggiore cultura nel mondo degli investimenti per poter prendere delle decisioni più ragionate. Dato che abbiamo già parlato di tante informazioni diverse, vorrei farvi alla fine del video un piccolissimo recap dei punti chiave che secondo noi dovreste portarvi a casa per comprendere su cosa si basa il mondo degli investimenti. Regola 1, non perdere soldi, la più importante. Il concetto di inflazione, nel tempo il denaro perde potere d'acquisto, non vediamo concretamente diminuire il nostro conto in banca, il nostro patrimonio, ma con le stesse somme possiamo permetterci sempre meno attività. Altra cosa importante è il concetto di rischio rendimento, ogni possibile guadagno comporta una possibile perdita, quindi non esistono guadagni assicurati e se si vuole guadagnare tanto spesso bisogna anche rischiare di più. Proseguiamo, esiste una molteplicità di strumenti finanziari per adattarsi alla situazione di ognuno, per questo non ci sono portafogli o strategie preconfezionate che vanno bene a tutti. Altra cosa scontata sui guadagni, si pagano le tasse, è molto importante ricordarselo ma ci torneremo sopra. Insomma questa era la prima lezione introduttiva di presentazione del corso, tenetevi pronti perché fra due domeniche partiremo a cannone con la seconda lezione e vedrete che pian piano imparerete a conoscere meglio questo mondo. Ringraziamo Scalable Capital, lo sponsor di questa iniziativa, per il supporto e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Ingenier in Borsa. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!